Il ceto medio non vuole distruggersi, ma vuole solo prendere il nostro posto, con le maniere più dolci. Quel che rimane di un artista non sono le sue debolezze, che possono scandalizzare, ma il suo lavoro. Lei crede nelle guerre? Io credo che la libertà di un popolo debba essere difesa a costo della propria libertà e della vita. Perché non ci lasciate camminare accanto a voi sulla terra? Creatura accanto a creature. Donna accanto a uomo, nulla di più, nulla di meno.